Più di 20 borghi illuminati a festa, circa 300 pullman stimati in arrivo, decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e oltre confine. Questi sono alcuni numeri del periodo magico che si appresta a vivere la provincia di Pesaro Orbino dal 26 novembre al 6 gennaio, con i mercatini più belli del centro Italia, un evento definito come il più esteso d'Italia. Un progetto di promozione turistica delle proloco, frutto di sinergie tra territorio, regione e volontariato, che mette risalto un elemento fondamentale, la socialità del Natale per questo evento, che ogni anno si arricchisce di novità. Le novità sono tante, diciamo che in molti borghi ci sono molte creazioni e quindi per quello che si chiama il Natale che non ti aspetti. È vero che ci si aspetta oramai di trovare tante belle cose, ma il Natale che non ti aspetti perché ogni anno le nostre proloco fanno sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di originale e qualcosa di bello. Cioè arrivare nei nostri borghi ti innamori solo arrivando nei nostri bellissimi borghi, perché vedi tutto veramente addobbato, a perfezione, con amore, con professionalità. E questo perché? Perché sono proprio i volontari che, amanti del proprio paese, curanti del proprio territorio, riescono ad esprimere al meglio la cura e l'attenzione e la dedica a quel territorio. Un cambio di passo quello della Regione Marche, con il progetto di destagionalizzazione con il Natale che non ti aspetti, che porta a una visione unitaria della promozione turistica, mantenendosi ancorata alle tradizioni. La forza del richiamo di questa iniziativa si basa proprio sulle tradizioni che noi non vogliamo cancellare, ma anzi vogliamo riproporre e valorizzare perché attorno a quelle tradizioni si è formata la nostra comunità. L'intuizione dell'UMPI della provincia di Pesaro e Orbino di unire le proloquo e le comunità cittadine è proprio per non farsi concorrenza. E' il cambio di passo un po' in tutti i settori della nostra Regione, della Regione Marche, guidata dal Presidente Acquaroli, che vuole un'unità tra tutte le forze sociali, economiche, le energie vive della nostra Regione per rilanciarla. I numeri del turismo lo dimostrano in crescita, in forte crescita dopo la pandemia e anche la tenuta dell'anno che si sta concludendo con una maggiore attrattività anche dei turisti stranieri ci rende orgogliosi di quello che si sta facendo. E in questo la Regione è sorretta anche dalle tante iniziative di soggetti non istituzionali che collaborano per rafforzare l'appeal della Regione Marche. In questo caso le proloquo stanno facendo un grande lavoro. Fare rete, unione, creando tutte quelle iniziative che possono destagionalizzare l'offerta turistica. E questo è il messaggio di ConfCommercio Marche Nord. Grazie all'unione degli imprenditori e dei volontari e grazie al fatto che possiamo continuare a dire con fiducia investite nel territorio. Noi dall'altra parte cercheremo sempre più di fare eventi che portino turisti, quindi persone che frequentano le nostre imprese, e sempre più promuoveremo l'unione tra la costa e l'entroterra, come i progetti di Natale Conti Aspetti appunto fanno di Caposaldo. Grazie a Natale Conti Aspetti e all'itinerario della bellezza, che in realtà è il nostro progetto di punta a livello turistico come ConfCommercio, potremmo non solo esportare questo progetto e diventare un po' quelli che sono i precursori di un'attività turistica integrata, appunto tra pubblico e privato, tra volontario e imprenditore, ma diventare anche quelli che possono veramente creare un modello di business turistico e di business enogastronomico, quindi di valorizzazione dell'eccellenza, unico in Italia, perché in realtà all'Italia non manca nulla, manca solo qualcuno che raccolga tutti insieme queste iniziative, faccia rete e poi lo promuova.